Un grande benvenuto a Giovanni Toti che oggi è qui per una sua giornata piemontese, quindi il Piemonte ti accoglie con grande affetto, con grande amicizia. E l'occasione di questa tua visita in Piemonte diventa l'opportunità per siglare formalmente un accordo a cui stiamo lavorando già da qualche settimana, Regione Piemonte e Regione Liguria, in merito alla campagna vaccini e in merito alle collaborazioni tra le nostre realtà e le nostre istituzioni sanitarie. Per quanto concerne i rapporti tra Piemonte e Liguria sono da sempre rapporti molto stretti, sono rapporti che affondano le loro radici nel tempo, noi siamo due regioni amiche, lo sono i piemontesi con i Liguri, i Liguri con i piemontesi e siamo anche due regioni che hanno un interscambio molto reale e concreto, economico ma anche sociale, specialmente turistico, ma non solo. Se voi pensate a tutto il lavoro che insieme a Giovanni Totti stiamo facendo per quanto riguarda il Basso Piemonte, la provincia di Alessandria e Genova, il Terzo Valico, la definizione delle opere complementari che abbiamo sottoscritto l'altro giorno, con l'abbattimento dell'ultimo diaframma per il collegamento su Genova, essere il retroporto naturale di Genova come provincia di Alessandria e come Basso Piemonte per noi è davvero un'opportunità straordinaria che quindi rende anche concreti i nostri rapporti a livello economico e commerciale. Oltre al Terzo Valico però, come vi dicevo, c'è il legame turistico tra le nostre due realtà. Da sempre i piemontesi sono tra i turisti più affezionati del mare della Liguria, un po' di più la Liguria di Ponente storicamente che non la Liguria di Levante che magari è più appannaggio dei Lombardi o degli Emiliani, ma la Liguria di Ponente è proprio una realtà. Quando andiamo in vacanza nel mese di agosto e ci muoviamo in quelle zone, molto spesso ti sembra di essere a casa, perché c'è questo legame storico tra i piemontesi che vanno in Liguria e tra i tanti Liguri che vengono in Piemonte. Abbiamo in particolare tutto il turismo invernale delle località sciistiche e non solo invernale ma anche estivo della montagna d'estate con il turismo outdoor e che sono delle realtà estremamente significative. Questa situazione ci portò già negli anni passati a lavorare su una prima collaborazione, se ricordate, in materia scolastica, in materia di calendari scolastici, perché un'azione a cui noi abbiamo già lavorato in passato era proprio quella di prevedere la possibilità di tardare qualche giorno l'ingresso a scuola sull'autunno in Piemonte per favorire quindi la vacanza con la famiglia nel mese di settembre e quindi in un periodo magari anche meno oneroso, approfittando anche di opportunità che la Liguria metteva in campo e dall'altra parte il calendario scolastico Ligure che introduceva il ponte di Carnevale e quindi introducendo un'opportunità per le famiglie Liguri di venire a fare la settimana bianca in Piemonte. Sono dimostrazioni concrete di come si possa operativamente senza particolari oneri ma con un po' di capacità e di voglia di lavorare insieme portare dei risultati concreti al nostro territorio. Oggi parliamo di campagna vaccini, la campagna delle vaccinazioni nella regione Piemonte ma come vedete anche i dati anche nella regione Liguria siamo due regioni virtuose che procedono in maniera molto spedita per quanto concerne la vaccinazione se voi guardate il ciclo delle persone completamente vaccinate in rapporto ai residenti Liguria e Piemonte sono tra le prime quattro regioni d'Italia e quindi ci collocano ai vertici. Nella logica che noi abbiamo adottato in Piemonte è stata quella di non portare le persone al vaccino ma portare il vaccino alle persone, questo ci ha permesso di costruire oltre 250 hub vaccinali nella nostra regione, ci ha permesso di avere arruolati oltre mille medici in più mille farmacie, ci sono già 1100 aziende che si sono iscritte e ci siamo formalmente candidati per inaugurare in Piemonte il 3 giugno il vaccino all'interno delle aziende e quindi stiamo lavorando davvero in maniera molto forte. Lavoriamo sempre vincolati al numero delle dosi che ci danno perché è impossibile come sapete l'approvvigionamento diretto. Ma se c'è un tema su cui però abbiamo voluto lavorare è che andiamo verso l'estate e andiamo verso il mese di agosto. Per quanto concerne il mese di agosto noi come regione abbiamo lavorato per introdurre all'interno del portale una maggior facilità di gestione della data di modo che nella data di ferragosto ci sia la possibilità in qualche modo di anticiparla o posticiparla sempre all'interno della finestra però del medica del vaccino che hai fatto ma ci sono però situazioni che dobbiamo evidentemente prendere in considerazione proprio per favorire il più possibile le persone che devono vaccinarsi. Tra queste c'è la possibilità di vaccinarsi in vacanza. Questo è un tema che è stato dibattuto anche a livello nazionale. È comprensibile che ragionato su tutte le regioni d'Italia possa essere complicato. Credo che sia anche uno dei motivi per cui il governo è stato molto prudente su questo tema. Ciò non toglie che però le regioni possano in qualche modo lavorare, specie regioni come Piemonte e Liguria, ad accordi territoriali. Questo è il motivo dell'accordo che noi sottoscriviamo oggi. Un accordo che adesso l'assessore Riccardi vi illustrerà maggiormente nel dettaglio. Naturalmente è un accordo che noi firmiamo e che un minuto dopo parte per la struttura commissariale del generale Figliuolo che è già informato di questa iniziativa perché necessita dell'autorizzazione da parte del piano vaccinale nazionale. La logica è proprio quella però di favorire dopo un anno e mezzo di reclusione forzata di tante famiglie che non hanno potuto uscire dalla loro abitazione per tanti mesi, dal loro comune o fare le vacanze, magari dare la possibilità che se uno quella ha, perché quelle sono le ferie e molte spesso non sono modificabili, si trovi nella possibilità di poter effettuare il vaccino se Ligure si trova in vacanza in Piemonte o se in Piemonte e si trova in vacanza in Liguria. In che modo? Indicativamente, perché poi noi trasferiremo la richiesta al governo, ce lo spiega l'assessore Luigi Cardi che ringrazio. Grazie Presidente. Certamente è condivisibile il progetto di rendere più facile, più fruibile la vaccinazione e il Presidente l'ha ricordato per un motivo semplice, noi dobbiamo fare in modo che più persone possibile possano accedere alla vaccinazione. Quindi anche eliminare quelle barriere di una persona che in una settimana, 10 giorni di vacanza debba tornare nella regione di residenza in Piemonte per fare la vaccinazione e perdere una giornata è sicuramente fastidioso. E per cui procediamo. Procediamo ovviamente non per coloro che fanno un semplice weekend, ma abbiamo un minimo di 7 giorni di vacanza per poter attivare la procedura. E lo facciamo attraverso le nostre aziende sanitarie, anche con delle autocertificazioni, soprattutto stiamo lavorando per allineare i sistemi informativi della Liguria con quelli del Piemonte. ed è un'operazione che era già un po' iniziata, ricordate, nel periodo in cui c'erano stati quei problemi di circolazione in Liguria, Frane, allora tutti i dializzati che non potevano recarsi per i centri Liguri li abbiamo accolti in Piemonte e allora in quell'occasione Alisa, che è l'agenda zero della Liguria, ha iniziato a dialogare sotto questo profilo con l'assessorato, cercando di organizzare. Ora quei principi di accordi e di sincronizzazione informativa procederanno adesso in modo più significativo. Qual è l'entità stimata delle popolazioni che si spostano? Noi sappiamo che ci sono circa 50.000 Liguri che vengono in vacanza in montagna in Piemonte, montagna o non montagna, ma comunque in Piemonte, mentre noi siamo circa a 250.000, i dati 2018-2019, quindi ci sarebbe tendenzialmente un rapporto 1 a 5. Numeri molto importanti, ma sappiamo che una parte significativa della popolazione anziana è già vaccinata, per cui non dovrebbe esserci la necessità di arrivare a questi numeri, anche perché le compensazioni poi andranno fatte attraverso i nostri sistemi informativi e richiederemo poi a Roma, al netto del conguaglio, la compensazione di dosi alla regione che ne ha inoculate di più ai residenti dell'altra. Quindi i nostri tecnici stanno lavorando per, dicevo, allineare i sistemi informativi, per definire concretamente le procedure con le quali noi identificheremo i soggetti in vacanza. Naturalmente aspettiamo il nulla osta da parte della struttura commissariale di Figliolo. Fatto questo, credo che le problematine tecniche saranno risolte e avremo la possibilità davvero di rendere più agevole la vaccinazione. E lo voglio ricordare in ultimo, perché è importante rendere agevole la vaccinazione? Perché oltre a essere un salvavita per molte persone in categoria a rischio, oltre a essere importante per poter proteggere il nostro tessuto produttivo, più saremo veloci nella vaccinazione, minore sarà la possibilità del virus di circolare e di sviluppare delle varianti che, ci auguriamo, possano sempre essere intercettate dal vaccino. Grazie Presidente, ho concluso. Grazie mille Luigi. Bene, ora la parola a Giovanni, ringraziandolo ancora per non solo l'amicizia personale, dopo la nostra esperienza anche iniziata in quella di Bruxelles, ma proprio per la condivisione di tanti temi, per cui in questo anno e mezzo di pandemia, in cui le riunioni della conferenza delle regioni erano molteplici, molto spesso, molto lunghe, di durata e anche notturne, trovarsi non soli, ma trovarsi a condividere con Presidente e anche amici questo percorso così complicato, per me è stato di grande aiuto. Quindi grazie Giovanni e te la parola. Grazie a te di questa mattinata, colgo come gesto d'affetto anche che hai fatto spuntare un bel sole su Torino contro ogni previsione del tempo, quindi è stato anche un'arriva. Grazie anche a Luigi, io sono anche assessore alla sanità della regione Liguria e Luigi si è preso carico di coordinare la nostra sanità regionale in questo periodo e vi assicuro che non è stato un periodo facile. Abbiamo tutti qualche capello bianco in più dopo questi 14 mesi di pandemia. Se oggi siamo qua a firmare un accordo che prevede di dare un servizio ai nostri cittadini anche in un momento più rilassante come quello delle vacanze, lo dobbiamo anche allo straordinario lavoro che le nostre sanità sono riuscite a fare in questo ormai anno e quattro mesi e tre mesi di pandemia e credo che questo lo dobbiamo sempre ricordare perché se siamo oggi tutto sommato a vedere l'orizzonte è un orizzonte felice grazie al lavoro di tutti i nostri collaboratori sanitari ad ogni livello che si sono spesi. Quello che firmiamo oggi è un documento su cui poi lavoreranno i nostri uffici tecnici di qua a qualche ora. Adesso io leggo ogni tanto delle reprimende circa la stravaganza presunta delle politiche delle regioni. In tutta sincerità io credo che qua oggi si espleti il ruolo che è il cuore delle nostre regioni cioè dare dei servizi ai cittadini per quanto ci è possibile tenuto conto delle esigenze dei territori. Anche stamani mi sono svegliato leggendo sul Corriere della Sera, primo giornale che leggo tutte le mattine anche un pezzo di bella scrittura però su cui si accusano le regioni di fare le regioni. Se noi abbiamo un sistema regionalistico in Italia è perché i territori sono diversi e il legislatore nazionale e anche i padri costituenti hanno pensato che fosse opportuno un livello di governo territoriale che andasse in conto alle esigenze dei cittadini talvolta diversi tra la Basilicata e il Piemonte, tra la Valle d'Aosta e la Sicilia, tra la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. Non vedo francamente che cosa vi sia di strano in tutto questo. Si può scegliere un centralismo o si può scegliere un regionalismo ma scegliere il regionalismo e accusare il governatore Cirio o il governatore Totti di agire in modo diverso a seconda se si intercettino bisogni del Sestrier o di Portofino mi sembra qualche cosa francamente di piuttosto insensato a cui non riesco a rassegnarmi. D'altra parte lo ricordo sempre la leale collaborazione che c'è anche in questo caso perché sia il Presidente Cirio come ha detto sia personalmente o non solo avvisato ma discusso a lungo con il generale Figliuolo che a tutta la nostra stima e sta facendo uno straordinario lavoro di questo tipo d'accordo che peraltro anche qui non mi pare una cosa particolarmente stravagante. adesso se uno pensa di vendere l'ombrellone, la camera d'albergo e il vaccino in tre giorni o l'inclusive probabilmente eccederemo un filo da quello che è il nostro dovere istituzionale ma se uno, questo ci lavoriamo per la campagna del 2022, se uno pensa che finite le scuole il 9 di giugno non so quando finisce quel calendario scolastico ma più o meno saremo lì un genitore con i due figli, si trasferisce nella sua casa di Bordighera o di Alassio oppure viceversa di Dimone Piemonte o di Prato Nevoso per far respirare l'aria buona magari a 30 anni perché ha dei figli piccoli e quindi non è stato ancora vaccinato e anziché affrontare le autostrade della Liguria che non sono esattamente una passeggiata di salute in questo periodo riesce ad avere lì il vaccino, io credo che sia un ragionevole servizio che non impegna più di tanto le sanità regionali e ci consente di continuare una campagna vaccinale che altrimenti magari qualcuno rimanda il vaccino di tre settimane, quattro si ritrova a settembre riparte la scuola, ci sembra una precauzione di buonsenso per la salute pubblica e un servizio che diamo ai nostri cittadini senza particolare sforzo quindi bollare come stravaganti iniziative che io credo siano assolutamente pragmatiche e concrete non credo che sia una buona cosa ricordo agli amici della stampa in ogni caso che in un anno e tre mesi di pandemia la conferenza delle regioni ha approvato tutti i dpcm del precedente governo tutti i decreti dell'attuale governo all'unanimità anche quando avevamo legittimamente qualche cosa da osservare e il governo non ha impegnato una sola ordinanza delle regioni certamente non del Piemonte e della Liguria a memoria ricordo solo l'impugnativa dell'ordinanza della povera Iole Santelli sui ristoranti la primavera scorsa quindi vuol dire che la leale collaborazione istituzionale si è espletata al suo meglio quando in un momento così duro e anche di grande tensione di fatto non c'è stato nessun contenzioso tra governo e regioni che normalmente invece è un contenzioso piuttosto corposo direi che siamo andati piuttosto bene io ho risposto a quest'idea che per la verità è venuta ad Alberto per concedere il merito di tutto questo ritengo anche che i numeri che ha detto l'assessore Riccardi sono molto importanti ma di fatto avendo dipanato una campagna vaccinale che sta funzionando molto bene e spannometricamente le nostre regioni vaccinano circa l'1% della popolazione ogni giorno che Dio mette in terra quando arriveremo alle grandi ferie di luglio ed agosto avremo numeri molto più ridotti quindi questo genere di iniziative tra regioni io ritengo che sia il sale del regionalismo italiano esattamente quello che è il nostro compito in coordinamento con gli uffici del commissario che ovviamente dovrà dare corso a tutto questo indicarci eventualmente peraltro io ho detto se qualche altra regione del quadrante di nord ovest volesse aggiungersi a tutto questo non è un matrimonio chiuso è una metodologia di lavoro che le regioni come sapete bene applicano peraltro a procedure ben più sofisticate del vaccino perché la mobilità sanitaria e persone che fanno dal Piemonte riabilitazione in Liguria piuttosto che persone che si vanno operare dalla Liguria nel nord Italia la mobilità regionale per la sanità esiste da quando esiste una competenza regionale sulla sanità quindi stiamo parlando di cose assolutamente normali chiudo solo dicendo che se siamo qua a parlare di vaccini in vacanza poi magari ci sono anche situazioni per cui questa cosa faciliterà non solo chi è in vacanza perché è vero che c'è riscrizione temporanea alle aziende sanitarie è vero anche che spesso è una pratica piuttosto lunga siccome ci sono lavoratori stagionali che dal Piemonte vengono in Liguria a fare la stagione come ci sono i maestri di sci che poi in autunno torneranno dalla Liguria a lavorare in Piemonte ci sono gli stage gratuiti degli studenti delle scuole alberghiere o di altri corsi universitari o di formazione che magari si trovano a lavorare in un albergo in una struttura nelle regioni reciproche potrà essere usato anche per questo la cosa bella, fatemelo dire, è un bel sabato quasi di bel tempo è che stiamo parlando di persone che si spostano da regioni e per noi per un anno siamo stati sostanzialmente chiusi agli spostamenti vuol dire che le cose vanno bene stiamo parlando di vacanze vuol dire che le cose vanno bene stiamo parlando di vaccini e di vaccinare persone vuol dire che finalmente la campagna vaccinale ha preso un passo che ci possiamo permettere di guardare con ottimismo quindi è una giornata positiva che va presa col suo significato più profondo quella di una positiva collaborazione tra regioni vicine anzi, mi auguro che questo incontro era un po' che non ci vedevamo di persona con Alberto per un sacco di motivi di alvia anche a tutte quelle cabine di regia che abbiamo insieme la logistica, ne ha parlato Alberto prima la collaborazione sul settore turistico sull'agroalimentare siamo due regioni ma siamo una regione unica per certi aspetti da un punto di vista morfologico e dell'offerta di beni, servizi, prodotti ai cittadini e a chi ci frequenta quindi andiamo su questa strada credendo di dare anche un piccolo contributo alle idee ad altre regioni che potrebbero verosimilmente trovare opportuno fare cose analoghe e dare servizi analoghi ai loro cittadini quindi grazie Alberto grazie mille Giovanni allora il documento che noi andiamo a sottoscrivere aspettate ancora un secondo che ve lo allora il documento che noi andiamo a sottoscrivere prevede che i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione presso i punti vaccinali siti in regione Liguria così come i residenti in Liguria potranno ricevere la vaccinazione presso i punti vaccinali siti in regione Piemonte con queste condizioni che il soggiorno venga a scopo turistico durante il periodo estivo per una durata che rende difficoltosa l'offruzione della prestazione vaccinale della regione di residenza che l'interessato richieda la prestazione attestando la sussistenza delle condizioni di applicabilità del presente accordo e il richiedente specifici la sua condizione di soggetto non vaccinato oppure presenti la certificazione relativa alla data e la tipologia della prima dose ricevuta che l'interessato rilasci le richieste di autorizzazione al trattamento dei dati le modalità di prenotazione e registrazione della vaccinazione così come l'interoperabilità dei sistemi di regione Liguria e Piemonte garantiranno l'organizzazione dell'operazione la vaccinazione sarà natificata all'anagrafe vaccinale nazionale che provvederà a inviare alla regione di residenza le informazioni relative al termine sulla base della rendicontazione trasmessa alle regioni da parte dell'anagrafe vaccinale nazionale saranno stabilite le modalità per il riequilibrio delle scorte del materiale vaccinale anche perché sapete che i liguri sono parsimoniosi non vorremmo che alla fine ci doveste rimettere nelle dosi prima di andare via Icardi me ne carica due pizze box nel bagagliaio della macchina che comincio a portarmele via quindi tutto è certificato e naturalmente il presente protocollo è subordinato all'approvazione da parte del commissario straordinario generale Figliuolo che ancora ieri ho sentito e che lo attende già in giornata per le sue opportune valutazioni in merito quindi con con grande piacere sottoscriviamo 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 Sottoscriviamo